Parma Facciamo Squadra è alla terza edizione. Dopo aver raccolto generi alimentari nel 2013, mezzi per la mobilità solidale nel 2014, ora l'iniziativa coordinata da Forum Solidarietà punta a dare concretezza ai sogni delle persone che rischiano la povertà o che poveri lo sono già. Il credito di inclusione come antidoto alla povertà è il tema della campagna di quest'anno. Tutto questo sarà al centro della puntata di questa sera di Parma Europa in diretta alle ore 21. L'obiettivo è quello di accendere una luce su chi rischia di finire ai margini della società a causa di una crisi che sembra non finire mai. Non gli ultimi, ma i penultimi persone o famiglie che fino a ieri godevano di un decoroso tenore di vita e che si trovano ora alle soglie della povertà e della disperazione. L'iniziativa di quest'anno parte dall'esperienza dell'Associazione di Promozione Sociale Ricrediti che ha come obiettivo quello di fornire servizi che agevolino l'accesso al credito per accompagnare i suoi beneficiari nel percorso di costruzione di un'autonomia economica e finanziaria, implementare programmi di microcredito volti a sostenere situazioni di emergenza temporanea e servizi rivolti alla persona, finalizzati al sostegno della gestione del danaro anche per avviare progetti di impresa privata. Nel corso della trasmissione anche le storie di persone che si sono trovate senza lavoro o senza danaro e che grazie al microcredito sono riuscite a ripartire. Questa sera alle 21 a Parme Europa.